Numero 10, Striga Numero 34, Boramani And number 30, in the second lane Second line, number 35, Luigi Diattitino Three, two, one, go! Ten secondi Three, two, one, go! Three, two, one, go! Three, two, one, go! Three, two, one, go! Vieni! Vieni! Vai Italia! Caste C7, sono gli atleti che stanno conducendo questa gara. Vedi che c'è il calcio. Desserti che lo rimanano in una politica. Vieni! 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 C'erano i migliori. Il gruppo si è già stranato. Sono transitati Kaimonen finlandese, Licev Isle. ragazze devono ancora congere un giro il secondo e quindi il terzetto che si contende il palazzo del posto ecco la russa e l'ultima seguita di nuova c'è una riuscita e l'ultima grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.